state vedendo spongano il 6 gennaio 2017 la grande nevicata un saluto all'amico direttore di radio giordani 64 facciamo un bel tour promenade con un po' di bon jovi non si è mai vista una cosa così caminetti fumanti ragazzi che giocano persone che scivolano in piazza ovviamente non c'è nessuno siamo al centro storico palazzo baronale non c'è nessuno 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 dopo un Natale in bianco ci facciamo una bianca befana i marottini che camminano non sono abituati ovviamente a questo clima stiamo andando verso la periferia stiamo andando stiamo andando più bianca non c'è nessuno più bianca non si può via garibaldi stiamo andando stiamo andando stiamo andando stiamo andando stiamo andando Grazie a tutti Salutiamo il nostro direttore di radio web Giordani 64 che sta a Calducci in casa mentre i suoi operatori stanno in giro a fare le riprese per questa splendida cittadina Via Guglielmo Oberdar Salutiamo l'amico Carmelo Che ci guarda da chiasso E qua non si capisce un chiasso Radio web Giordani vi aiuta oggi e vi aiuta domani Radio Giordani Il vostro futuro è nelle nostre mani Grazie a tutti Grazie a tutti Circomvalazione sembra di stare nel Sud Tirol invece siamo nel Sud Salente Abbiamo concluso per il momento il tour di Spongano Vediamo a pomeriggio di fare un altro giletto se mantiene la nevischia Ciao a tutti